società come l'Inter, una società campione d'Europa, campione del mondo, campione d'Italia credo che per un giocatore debba essere per forza un punto di arrivo però deve essere anche allo stesso tempo un punto di partenza perché io comunque non ho vinto niente quindi ho tanta voglia di vincere, di far bene cose che non so, vedo il passato pieno, prevedo un certo di quantità una voce grida dentro me, ma con la tua sfera vuole dirmi che diventerai una star, una celebrità, la gente intorno a te potrà toccare un re, diventerai una star, una celebrità trasformare ciò che ora sono in una realtà che storia incredibile, è un'olta che mi trascina via senza ancora voci dentro me basta la tua sfera per distruggerle diventerai una star, una celebrità la gente intorno a te potrà toccare un re diventerai diventerai una star, una celebrità trasformare ciò che ora sono in una realtà ogni tua verità la verità non mi fa tocchi con i miei sogni dimmi dimmi perché straccio quel numero e senza di te diventerai diventerai una star con semplicità la gente intorno a me potrà capire che diventerai una star con semplicità io vivrò il più grande sogno la musica